Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, 22 febbraio, venerdì. Vediamo quali sono i temi fondamentali, anzi il tema fondamentale l'avevamo già un po' anticipato ieri, riguarda la TAV. La TAV in realtà sono tante cose, però quella che ci interessa è la Torino-Lione, di cui i francesi hanno già iniziato a fare i buchi, anche gli italiani perché ne hanno fatto 7 km i buchi, un buco che peraltro Matteo Salvini, Ministro degli Interni, conosce bene, questo però non ha impedito, buongiorno a Bibiana che si è subito collegata, questo non ha impedito ieri di votare una mozione approvata dal Movimento 5 Stelle e Lega, voi vi rendete conto cosa vuol dire? I leghisti hanno firmato una mozione sulla TAV insieme al Movimento 5 Stelle, adesso la politica fa i miracoli, fa di tutto, mette insieme i disparati, ma pensare che deputati leghisti e deputati del Movimento 5 Stelle possono firmare una cosa insieme riguardo alla TAV dà il senso, secondo me, di come la politica possa essere completamente straniante rispetto alla realtà e questa mozione dovrebbe essere una mozione per cui si sottolinea che il progetto della TAV Torino e Lione debba essere rivisto. Dentro dunque c'è tutto e niente, stamattina a Canale 5 Salvini pochi minuti fa ha detto ma noi non vogliamo cancellare la TAV ma vogliamo rivederla. Il punto fondamentale è che, signori, come diceva ieri sulle 24 ore, come dice il buonsenso e dice forse anche il senso comune oggi, ritardare lavori in un momento come questo in cui il PIL è in decrescita e in cui c'è bisogno come il pane di utilizzare i finanziamenti europei è una roba da storditi. Oggi lo dice molto bene in un'intervista alla stampa, un parlamentare, scusatemi, il presidente della regione Liguria, Toti che peraltro è vicino alle posizioni di Salvini, anzi viene considerato uno dei più vicini a Salvini che vorrebbe addirittura rompere l'alleanza con Berlusconi ma oggi dall'intervista che vedo di Toti sulla stampa dice state facendo una grande cavolata ma è una cosa di buonsenso, chiunque non sia un grillino con il chip nel cervello capisce perfettamente che, o che sia uno del fake quotidiano, capisce perfettamente che l'alta velocità si deve a questo punto fare posto che l'abbiamo già vista in tutti i modi gli analisi costi e benefici il ministro dell'economia grazie al cielo, un personaggio che ha un po' di raziocinio ancora all'interno del governo, Tria ieri in un'intervista mi sembra a France Deux, non mi ricordo quale televisione francese dice che l'Italia comunque la continuerà a fare l'altro dato significativo è che non tutti i leghisti hanno perso la testa non tutti i leghisti riescono a tornare a casa e a spiegare ai loro elettori per quale diamine di motivo votano come Movimento 5 Stelle non solo il reddito di cittadinanza, altra grandissima cappellata ma hanno votato anche questa mozione che certo impegna il governo però non è che vuol dire granché 34 parlamentari della Lega ieri non hanno votato Pier Giorgio dice, Lamperti è il solito voto di scambio che è l'altro grande retroscena di tutti i giornali di ieri e di oggi cioè che i leghisti il giorno in cui sono stati salvati dalla base del Movimento 5 Stelle aiutano il Movimento 5 Stelle su una cosa che alla loro base piace molto però vi chiedo, se il voto russo è stato veramente fatto dai cittadini eletti al Movimento 5 Stelle perché i deputati del Movimento 5 Stelle vogliono farsi pagare questa cambiale a meno che non abbiano influenzato il voto sul russo non so se mi avete seguito Pine, Apple, Pine, Apple cioè dalle due non si scappa se pagano un prezzo i politici della Lega ai politici del Movimento 5 Stelle segnatamente Di Maio vuol dire che probabilmente i politici del Movimento 5 Stelle hanno una certa influenza su questa piattaforma russo se no dovrebbero averla nei confronti del Movimento 5 Stelle non dei politici non so se vi è chiaro il ragionamento un po' contorto ma direi che fila guardate oggi su Movimento 5 Stelle ci sono tante cose tra cui quel deficiente di Beppe Grillo che è un orrendo bullo avete presente quei bulletti a scuola che sono un po' cicciotti che pensano di essere sicuri di sé ma in realtà sono degli sfigati avete presente il bullo tipico di scuola ecco, questo è Grillo un bullo che è cresciuto e che ogni volta che sta in area di rigore fa finta di beccarsi un fallo questo è Beppe Grillo che ieri viene incalzato dalle domande dei giornalisti era venuto a Roma per fare politica non per fare uno spettacolo ha visto Di Maio e Casaleggio non è che è venuto a Roma a mangiarsi una matriciana è venuto a Roma i giornalisti legittimamente gli chiedono che cosa sta succedendo eccetera e questo qua prende in giro una collega giornalista perché ha la zeppola la S dice ripeti con me tre volte S no, tu sei uno stronzo tu sei uno stronzo chiaro? te la dico io la S se tu te la prendi con quelli che hanno la sindrome di Asperger quelli che ti fanno una domanda e gli prendi in giro per la zeppola tu fai schifo Grillo fai schifo prendere in giro le persone per il loro aspetto fisico come prendevano in giro Brunetta perché era un nano o perché quello è balbuziente o perché quello c'ha la zeppola è una cosa disgustosa che dà il segno della merda che è Grillo vi è chiaro il concetto? ah non devi attaccare Grillo pensate un po' voi se un vostro figlio un vostro parente un vostro cugino un vostro nonno un vostro conoscente fosse attaccato da un suo vicino di casa per un suo difetto fisico come considerereste questa persona? una persona disgustosa? ecco questo è Grillo nel frattempo retroscena su altri giornali ma quanto offese fate voi al movimento non rompere i coglioni arriva sempre il deficiente guardate che non è più un movimento non è più un movimento toc toc deficiente non è più un movimento è un partito c'è Calasaleggio c'è Grillo c'è Di Maio non sono quattro ragazzi no? perché già russo quello delle cose non è un ragazzo morra il capo dell'antimafia non è un ragazzo non siete più un movimento chiaro? toc toc non è più un movimento di quattro ragazzi prendete il finanziamento pubblico avete i rimborsi spese le vostre macchine blu i vostri ministeri le vostre segretarie i fidanzati dei segretari o le fidanzate dei segretari si candidano alla regione Abruzzo chiaro? chiaro? facile allora Di Battista altro ritroscena della giornata di oggi non sembra ecco ora sei tu che fai schifo stai esagerando sì esagero sai se tu pensi che io faccio schifo sai che puoi fare? puoi fare come me non votare il Movimento 5 Stelle non guardare questa zuppa vattene deficiente vattene se ti faccio schifo via non voglio questi cazzoni che mi seguono via quelli che pensano che Grillo non faccia orrore via da questa zuppa non vi voglio me ne fotto di voi non cerco voti va bene? andiamo avanti sulla questione diciamo della politica Di Battista secondo molti retroscena e secondo retroscena che fa anche Repubblica avrebbe creato un problema a questo movimento perché la sua discesa in campo per le regionali dell'Abruzzo non avrebbero portato i risultati buongiorno a Guido non avrebbero portato i risultati che ci si attendeva anzi anzi gli avrebbero creato problemi intervista a Bonafede ministro della giustizia sul fake quotidiano che ha questa idea geniale cioè le soglie vergognose dell'evasione fiscale dovrebbero essere abbassate sostanzialmente Renzi che cosa fece? alzò la punibilità per evasione fiscale a un certo livello sotto comunque c'erano dei problemi ovviamente dovevi pagare le tasse se vieni pizzicato c'hai le sanzioni beh la punibilità penale viene alzata noi la vogliamo riabbassare ovviamente qui non c'è esattamente la differenza tra un'impostazione liberale e un'impostazione diciamo giustizialista che è quella di Bonafede che non ha mai nascosto se voi vi piace questa roba qua ovviamente siete perfettamente in linea abbassiamo la soglia di punibilità per l'evasione fiscale e quindi i nostri errori la nostra incapacità di pagare le tasse non la mia nella fattispecie ma quella degli imprenditori che in qualche momento possono pagarla viene punita con un profilo penale non civile penale quindi tu utilizzi il codice penale per l'evasione fiscale diciamo ridotta invece di usare l'unica cosa che fa male secondo me dal mio punto di vista molto banale agli evasori cioè i soldi questo gli devi togliere devi togliere i soldi non fare processi penale ma fargli un mazzo così sui soldi questo è il principio secondo me più semplice ma questo è difficile da far capire ovviamente ai giustizialisti quota 100 l'altra grande vicenda di questo governo che è evoluta dalla Lega più che dal Movimento 5 Stelle come sta andando? beh i titoli che dà il Corriere della Sera sono sempre un po' forvianti sembra che quota 100 sia tutta quanta al sud poi vai a vedere i pezzi il pezzo di quota 100 in effetti la maggior parte delle risorse vengono date a una regione cioè la quota 100 vede su 60.000 richieste per andare in pensione anticipata 6.800 la prima regione che fa richiesta è la Lombardia poi certo il sud tutto sommato ne fa di più la Sicilia da sola ne fa 6.600 la Lombardia 6.800 la prima regione è la Lombardia l'altra cosa fondamentale è che la metà di queste richieste vengono dai dipendenti pubblici e metà dai lavoratori privati e in realtà anche persone un po' vecchie rispetto a quota 100 che 62 più 38 cioè 64 più 38 65 più 38 questo farebbe pensare che in realtà il tasso di sostituzione è un'altra grande follia che dice vai in pensione e mette i giovani non si verificherà buongiorno Giada e grazie grazie Formiconi va in carcere allora su questa cosa di Formiconi che va in carcere e va in carcere per corruzione un'altra cosa che mi diverte perché mi renderà antipatico a quelli che io voglio a cui voglio stare antipatico cioè i grillini e io condivido in pieno il pezzo di oggi l'intervista fatta oggi a Paolo Del Debio da Stefano Zurlo sul giornale e cioè è anche un po' feltri oggi sul libero e cioè questo signore ha cambiato radicalmente la Lombardia la sanità a Lombarda è diventata una delle più efficienti d'Italia ha messo privati accanto a pubblici certo qualcuno sostiene anzi sostiene ormai la Cassazione perché stamattina andrà in carcere che lui ha avuto varie utilità non soldi varie utilità è andato sullo yacht ha utilizzato una casa in Sardegna cioè ha avuto dei benefici quantificati in 6 milioni e mezzo per aver aiutato dei suoi amici questa è l'accusa che è stata confermata financo dalla Cassazione ma il punto fondamentale che dice Del Debio è quelle politiche liberali che ha fatto Formigoni oggi restano così come lui andrà in carcere e questo rende la storia ancora un po' più triste poi la giustizia fa il suo corso e Feltri ricorda oggi sul libro quanti leccapiedi aveva e dove erano finiti oggi neanche un prete gli farebbe più un funerale mentre ieri uno tutti i suoi piedi sostiene Feltri beh l'altra cosa straordinaria è che questi di 277 che sono stati su Adison sequestrati e poi liberati della nave 18 beh 40 fanno causa allo Stato italiano a Salvini per avere tra 40 e 70 mila euro di risargimento è una cosa che commenta anche Mario Giordano sulla verità allucinante allucinante ma il pezzo migliore per me oggi è quello di Gervasoni buongiorno Rosalba sul messaggero che ci spiega una cosa fondamentale cioè questo è il paese ormai dei ricorsi e soprattutto i ricorsi fatti da questi 40 scappati di casa nel termine tecnico questo sono da il senso di come ci sia un'organizzazione come dice Gervasoni molto danarosa intorno all'immigrazione che di questo ne ha fatto un business e anche una difesa bello il pezzo dunque di Gervasoni di Scafarto neanche ve ne parlo perché il fake quotidiano al carabiniere che si sbaglia ops di mettere il papà Tiziano Renzi come in un verbale dice non l'ha fatto per dolo solo per grave disattenzione e ovviamente il fatto quotidiano su questo ci passa sopra la disattenzione di un pubblico ufficiale che sbaglia a mettere un nome in guaia e fa finta che sia uno a dire una cosa al posto di un altro quindi di una gravità incredibile perché la polizia giudiziaria è quella che fa le intercettazioni e nei suoi brogliacci sbaglia a scriverlo e nonostante gli abbiano detto in chat guarda che non è la persona che sta dicendo lui continua nello sbaglio e i magistrati dicono non è un dolo è soltanto è soltanto una sua sciatteria bene questo qui per la sua sciatteria che rischia di mandare in galera delle persone il fatto quotidiano insomma lo tratta come se fosse ma poverino ha sbagliato poverino ha sbagliato un corno se io vengo intercettato e quelli sbagliano a scrivere quello che dico e dall'altra parte invece se uno sbaglia a fare una dichiarazione dei redditi deve andare in galera e quelli sono molto ben contenti e i due paesi delle misure perché uno era contro uno è con i magistrati con Woodcock e tutta quella partita là e l'altro invece è con Renzi Berlusconi e quell'altra partita là insomma è quello che facciamo nei giornalisti ecco ma non da prendere in giro come fa quello deficiente delinquente dal punto di vista semantico di Beppe Grillo ciao noi ci vediamo più tardi vedetevi lo straordinario pezzo di Antonio Pilati oggi sul sito nicolaporro.it che ci racconta perché Roma deve essere ancora la capitale d'Italia proprio l'anno prossimo che si celebrano i 150 anni un paradosso ma anche una provocazione Antonio Pilati sul sito nicolaporro.it ciao